Un vasto e robusto anticiclone con massimi sulla Francia interessa gran parte dell'Europa centrale occidentale e mantiene condizioni di stabilità anche sulla nostra regione. In Toscana venerdì 28 gennaio molto nuvoloso con rapide e schiarite a partire dalle zone nord occidentali in mattinata in estensione al resto della regione fino a cielo sereno dal pomeriggio. Venti deboli occidentali tendenti a divenire settentrionali, mari tra poco mossi e mossi, temperature in locale aumento in particolare sulle zone settentrionali. Sul territorio provinciale da coperto fino a poco nuvoloso o sereno. A Lucche sulla Piana temperatura minima 3 massima 14 gradi, a Castelnuovo Garfagnane zone montane minima 0 massima 11, a Viareggio sul litorale minima 5 massima 14 gradi. Sabato sereno poco nuvoloso, aumento della nuvolosità in serata a partire dalla costa.